Benvenuti all'appuntamento con Settimanalis edizione di sabato 8 dicembre 2018. È stata presentata presso la cittadella regionale di Catanzaro la proposta di legge del capogruppo PD in consiglio regionale Sebi Romeo che prevede un fondo di solidarietà per i giornalisti vittime di minacce e aggressioni da parte della criminalità organizzata. Durante la conferenza stampa lo stesso Romeo ha sottolineato l'importanza della legge necessaria per difendere la libertà di informazione e tutelare i media. È la prima proposta, questa della Calabria, a livello nazionale. Dal 2006 al 2017 si sono registrati 80 casi di intimidazione a giornalisti iscritti all'ordine regionale. La giunta regionale preseduta dal governatore Oliverio ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021, deliberato anche il disegno di legge relativo alle procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la programmazione del territorio in ottica sismica dopo gli impegni assunti con il Governo nazionale. Infine, via libera allo sblocco delle nuove autorizzazioni per il funzionamento delle strutture socioassistenziali. È in programma mercoledì 12 dicembre presso Palazzo De Nobili un tavolo tecnico sui lavori della metropolitana di superficie di Catanzaro. L'obiettivo della riunione è quello di evitare che l'apertura di nuovi cantieri intralci l'attuale sistema aviario. Al tavolo siederanno il responsabile unico del procedimento, la direzione dei lavori, la polizia locale, sindaco, vicesindaco, assessore ai lavori pubblici, presidenti delle commissioni consigliari competenti e una delegazione dell'impresa. Attualmente i lavori in corso sono concentrati nella zona di Germaneto dove non intaccano la circolazione stradale. Incidente mortale a Pinerolo, alle porte di Torino. Un medico calabrese in pensione, Pietro Francesco Viscomi, di 65 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre era alla guida del suo scooter. A nulla sono valsi i soccorsi del 118. Viscomi, nativo di Soverato, era molto conosciuto nel comune piemontese, ma ovviamente anche in nella cittadina catanzarese dove scendeva spesso essendo componente attivo della locale banda musicale. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Toninelli ha annunciato che i lavori di manutenzione del viadotto Bisantis di Catanzaro saranno completati entro il 2020. Lo stesso ministro ha annunciato anche la collaborazione tra ANAS e Università della Calabria per il supporto ad ulteriori attività progettuali. Secondo quanto comunicato dall'ANAS sul ponte Morandi, dallo scorso 3 dicembre sono in atto ulteriori interventi di manutenzione straordinaria che termineranno a dicembre del prossimo anno. Il Codacons ha presentato una denuncia nei confronti del sindaco di Sellia Marina Mauro, del governatore Oliverio e di Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. La decisione comunicata dal vicepresidente nazionale di Lieto è motivata dalla questione di sei passaggi a livello ricadenti nel comune catanzarese che ben presto chiuderanno, creando grossi disagi anche in termini di sicurezza ai cittadini della zona. Le strade alternative esistenti, infatti, non bastano a sopportare il traffico e, in attesa di opere sostitutive non ancora caratterizzate, sono elemento di gravissima insicurezza, oltre che di isolamento. Protesta di circa 500 precari ex-LSU-LPU calabresi alla stazione centrale di Lamezia Terme. Insieme ai rappresentanti sindacali di CGL Cisle Will, i lavoratori hanno occupato i binari della stazione, bloccando la circolazione dei treni e chiedendo al governo di accogliere alcune modifiche utili al percorso di stabilizzazione che in Calabria interessa circa 4.500 precari. Alla protesta ha anche partecipato il presidente della regione Oliverio, che ha difeso i lavoratori. Per il prossimo 14 dicembre è annunciata anche una manifestazione a Roma. Presso la chiesa del Monte dei Morti del Capoluogo, l'arcivescovo Bertolone ha celebrato Santa Barbara, protettrice del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Alla messa hanno partecipato le divise rosse, il comandante provinciale Lucia e numerose autorità militari, politiche e civili. Lucia nel corso dell'intervento ha sottolineato i 9.300 interventi delle divise rosse ricordando l'alluvione accaduta a San Pietro Lamettino che ha provocato la morte di tre persone. Il prefetto di Catanzaro, Ferrandino, su indicazione del Ministero dell'Interno, ha nominato la commissione d'accesso agli atti presso l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. La decisione è stata presa per poter verificare se nella stessa azienda interessata dall'operazione Quinta Bolgia sia stata violata la legge relativa ad appalti e da pubbliche gare nel corso degli ultimi anni. I commissari sono il vice prefetto Iannuzzi, il tenente colonnello di Nunno della Guardia di Finanza ed il tenente colonnello Ribaudo dei Carabinieri. Nuovo volo dall'aeroporto internazionale di La Mezzia Terme. Dallo scalo catanzarese infatti dal prossimo primo aprile 2019 partiranno due voli a settimana con destinazione Berlino. Lo ha annunciato la compagnia aerea Ryanair in un comunicato stampa. Il collegamento che funzionerà ogni lunedì e venerdì si inserisce nella programmazione della compagnia in Calabria per l'estate 2012, quando saranno offerte 12 tratte totali con l'obiettivo di far viaggiare 1 milione e 200 mila clienti durante l'arco dell'intero anno. Sono stati pubblicati sul sito dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro i calendari dei concorsi per la copertura di 30 posti di operatore socio-sanitario e di 18 posti per collaboratore professionale sanitario infermiere a tempo indeterminato. Le prove si svolgeranno presso l'Università degli Studi Magna Grecia del capoluogo. I candidati OS dovranno presentarsi i giorni 4 e 5 gennaio, mentre i candidati infermieri sosterranno le prove il 14 ed il 15 dello stesso mese. È già iniziata con i primi appuntamenti la serie di iniziative del programma Sarà tre volte Natale, voluta dal comune di Catanzaro e presentata presso il Cine Teatro Comunale con un mini show. Mercatini artigianali, musicisti di strada, degustazioni gastronomiche, laboratori per bambini, eventi tematici, spettacoli teatrali e musicali, mostre oltre al tanto atteso concerto di Capodanno. Allieteranno ogni giorno varie zone del centro storico. Tra gli artisti coinvolti dalla direzione del cantautore Antonio Pascuzzo ci sono Roy Paci, Micol Picchioni e Ambrogio Sparagna. È stata inaugurata al Museo Marca di Catanzaro la mostra coordinate e convergenze dell'artista tedesco Ulrich. L'esposizione caratterizzato dalla presenza di 30 opere raffigura l'importanza del concetto tridimensionale dei lavori dell'artista che appaiono come sculture da parete. La mostra potrà essere visitata fino al prossimo 27 gennaio. Applausi convinti dalla platea che ha affollato il Teatro Politeama di Catanzaro in occasione del musical Flashdance. Lo storico spettacolo diretto da Chiara Noschese ha catturato l'attenzione delle persone che hanno apprezzato la bravura dei protagonisti e le scenografie simili alla celebre pellicola del 1983. Particolarmente applauditi Valeria Belleudi e Lorenzo Tognocchi. E con questo ci congediamo. Grazie per aver assistito anche a questo appuntamento con Settimanalis. Ci vediamo la prossima settimana. Grazie per aver guardato il video.